Il gol di Alberto Gilardino, l'Italia in vantaggio, al trentottesimo, vediamo se suona il violino, sì come ai vecchi tempi, Alberto Gilardino, sblocchiamo il risultato e Gilardino raggiunge Roberto Bettega nella classifica all time dei marcatori, gol numero 19 in nazionale. Candreva parrebbe strano a sinistra, non nella sua fascia di competenza, trova il tempo per puntare l'avversario, complice la caduta è lo stesso, però lui molto bravo a rimanere lucido, a trovare il momento esatto per scodellare questa palla al centro. Qui cade il nostro avversario, lui non crossa subito, aumenta la corsa e sulla corsa. E vado a abbracciare Ardino Diamanti, Gilardino magari lo rivedremo anche in questo momento, intanto qui la regia di Vincenzo Belli ci ripropone l'azione del gol, cosa vuol dire avere padronanza con entrambi i piedi, no?